Benvenuto al mio castello. Grazie. No! È il tacchino della vicina! Un felice. Gli ho ammazzato la cocorrida. Mi sembra di vivere in un lula par. Quando c'è il party in acqua, anche il padre deve essere presente in acqua. Via tutti! Il peggior Natale della mia vita. Giovedì, in prima serata, su Canale 5.